ciao ragazze benvenute in questo nuovo video allora oggi voglio farvi vedere come realizzare questo smalto semi permanente veloce grazie a un kit di smalto semi permanente che mi è stato inviato da moreo un venditore amazon questo kit di smalto semi permanente è della linea azzur o azzur insomma come si pronuncia ed è un marchio cinese che però ho testato per voi e mi sembra già da queste prime impressioni molto molto valido prima di iniziare vi annuncio che ho subito un piccolo regalino per voi per quest'occasione delle feste di natale infatti se vi piace il kit vi piace il risultato sulle mie unghie potete ordinare lo stesso kit con un codice sconto del 10 per cento che trovate giù nell'info box trovate sia il codice sconto sia il link dal quale potete fare l'ordine allora apriamo e c'è subito questo pacchettino è molto ben sigillato infatti c'è anche la cellophane con questa carta da imballaggio ed ecco qui il contenuto come prima cosa in alto ho trovato queste questi adesivi che andranno applicate sicuramente nelle boccettine dei gel color per identificare il colore quindi dovrà cioè dovrei poi colorarle con il colore farle catalizzare nella lampada perché qui c'è anche una lampada all'interno del kit e metterle sopra le boccettine appunto per identificare i colori qui abbiamo anche il libretto delle istruzioni e c'è anche in lingua italiana quindi poi lo leggerò con calma comunque qui c'è tutta la spiegazione sulle istruzioni di sicurezza del prodotto come preparare le unghie come applicare il gel suggerimenti per una manicure come rimuovere eccetera qui c'è la lampada direi di iniziare da questa questa è la lampada uv led ero da tanto che desideravo una lampada uv led il cavetto di alimentazione ed è un cavo usb è molto intuitivo utilizzare questa lampada o almeno credo è molto piccolina compatta questi sono i piedini della lampada questi sono tutti i led sta in piedi così quel tempo 30 secondi 60 secondi e il cavo di alimentazione va messo qui questo è il resto del kit e allora questo lo spostiamo e vediamo cosa c'è qui in questa bustina abbiamo diverse cose ok si apre così dalla linguetta e usciamo il materiale allora a quanto ho capito queste sono delle salviettine queste verdi sono per pulire l'unghia dopo la preparazione dell'unghia quindi per eliminare i residui di limatura queste salviette invece si usano per levare appunto la dispersione del gel quindi continuando poi in questo sacchetto abbiamo un pennello stile kabuki che è morbidissimo però ahimè già perde peli a rimuovere i residui di polvere una lima questa è a una grana 603 mila quindi suppongo che sia una lima buffer poi abbiamo le separa dita per i piedi molto comodi molto utili nel caso in cui volessimo fare il gel semi permanente ai piedi un'altra lima questa ha una grana 100 180 e quindi questa serve per dare invece forma alle unghie limarle e accorciarle una spazzolina con le setole più dure per rimuovere gli eccessi di polvere subito dopo la limatura questo è un olio rivitalizzante per cuticole quindi suppongo da usare subito dopo il trattamento del nostro smalto semi permanente ed è così con questo applicatore a pennellino spingi cuticole in metallo un tagliaunghie abbiamo quest'ultimo attrezzino che è la lingua di vipera serve a rimuovere le cuticole per finire abbiamo qui quest'altro pacchetto ci sono i nostri smalti semi permanenti quindi li usciamo tutti uno per uno quindi dovrebbero essere due basi e quattro colori prima cosa che ho voluto provare è stato applicare i vari colori su questi adesivi che vedete già staccati mentre questo ancora no ovviamente ho passato il colore sopra gli adesivi li ho fatti catanizzare in lampada e poi quando ho provato ad applicarli qua sopra sul tappino ho notato che i colori iniziavano a raggrinzirsi il risultato qua sopra sul tappo della bocettina era veramente brutto quindi ho detto no vabbè lasciamo stare ovviamente il semi permanente sulla plastica ha questo effetto brutto quindi cosa ho fatto ho detto niente questa cosa non va bene non mi piace ho lasciato quindi da parte gli adesivi e invece ho voluto provare i colori come potete vedere qui sulle tip applicati sulle tip i colori sono veramente molto molto belli e per riconoscerli dalle boccettine ovviamente ho scritto sopra la marca che è azzur spero si pronunci così azzur o azzur insomma con i vari numeri ad esempio giro la boccetta e questo è il 7051 quindi è questo colore qui prendiamo la lampada che si trova all'interno del kit e la cominciamo a montare appena già subito collegata si accende il monitor al centro della lampada con i numerini per prima cosa con la lima andate ad accorciare o limare le vostre unghie andiamo con il nostro spingicuticole a spingere indietro tutte le cuticole io in questo caso per ora ce le ho abbastanza lunghe e quindi vedete come si spingono molto bene e poi con la parte appuntita andiamo a sollevarle meglio stesso procedimento su tutte le altre unghie quindi spingiamo sempre bene le nostre cuticole indietro non ci limitiamo solo alla parte centrale ma spingiamo anche nei laterali è molto molto importante e poi di nuovo passiamo la zona appuntita vedete come vengono via alcuni residui mi avvicino ecco ovviamente questa operazione può sembrare innocua e tranquilla ma fate tutto con tanta tanta attenzione perché potreste farvi male prendo la spazzolina ed elimino qualche residuo prendiamo adesso la nostra lima buffer e iniziamo ad opacizzare le nostre unghie non serve andare a graffiare molto sulla superficie dell'unghia basta solo opacizzarle in questo caso per rimuovere i residui di polvere dato che già l'unghia è stata un po' traumatizzata dalla lima buffer uso questo pennello più delicato e questo è il risultato che dovrete ottenere la differenza si vede tra l'unghia opacizzata e quella non ancora opacizzata fate così su tutte le altre unghie dopo aver opacizzato tutte le mie unghie dato che in questo kit non ci sono aggrappanti tipo primer, binder e nail prep vado a seguire le indicazioni che ci sono su questo kit quindi cosa faccio? dopo aver eliminato i residui di polvere con il nostro pennello utilizzerò questa salviettina di pulizia per le unghie quindi la vado a passare bene sulle unghie ok e prima di procedere con l'altro passaggio aspettiamo 15 secondi il tempo che le unghie ritornino opache dopo che le nostre unghie sono ritornate opache iniziamo a passare il nostro semipermanente stendiamo una passata della nostra base per semipermanente e chiudo in punta grazie a tutti devo dire che questi applicatori quindi questi pennellini sono molto comodi mi piacciono fatte tutte e quattro le dita il pollice lo lasciamo per ultimo avvicino la lampada e la aziono per 30 secondi trascorsi i 30 secondi stendiamo i nostri colori a me siccome piacciono tutti ho deciso di utilizzarli tutti e quattro stendo questo il colore più scuro sul mignolo facciamone uno strato molto sottile e tiriamolo per bene puliamo il pennello dagli eccessi di prodotto e stendiamolo al meglio adesso stenderò questo il rosa più chiaro sull'unghia del dito medio di qua ho scaricato proprio tutto il colore dal pennello e infatti l'applicazione mi risulta più semplice chiudo sempre in punta prendo adesso il rosa più scuro e lo applico sul dito anulare e poi lo andrò a riproporre sul dito pollice sull'unghia del pollice a riproporre sul dito grazie a tutti 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 e come ultimo colore stenderò questo qui sull'unghia del dito indice una volta steso rimetto in lampada le quattro dita a catalizzare stavolta per 60 secondi allora io ho ripetuto per la seconda volta lo stesso passaggio quindi ho fatto una seconda applicazione dei colori per renderli ancora più intensi e questo è il risultato adesso vado a sigillare tutto con il nostro top coat anche di questo ne stendiamo uno strato molto sottile e lo tiriamo per bene ricopriamo tutta la nostra unghia senza dimenticare alcun piccolo spazio e poi ricordiamoci sempre di chiudere la punta una volta steso il nostro sigillante andiamo a catalizzare per altri 60 secondi terminati i 60 secondi le nostre unghie sono belle lucide e devo dire che l'aspetto del colore è molto molto omogeneo sull'unghia mi rendo conto che è molto meglio la qualità rispetto sopra una tip di plastica cosa facciamo adesso? andiamo a rimuovere lo strato di dispersione dalle nostre unghie con questo pad UV gel passiamo delicatamente su ogni unghia ed ecco questo è il risultato adesso non ci resta che ripetere tutto sulla nostra ultima unghia quindi il pollice fatto ciò per terminare prendiamo il nostro olio per cuticole e lo stendiamo su tutto il contorno cuticola delle nostre unghie lo massaggiamo per bene il nostro semi permanente è terminato a me piace tanto l'accostamento di tutti questi colori insieme prima mi sembrava qualcosa di improponibile però invece a vederli così è veramente molto bello e delicato trovo che questi colori siano adatti per la stagione invernale spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuto questo kit e vi ricordo che se volete acquistarlo avrete lo sconto trovate tutti i link giù nell'info box colgo quindi l'occasione adesso di farvi tanti auguri di un buon Natale e spero che lo possiate passare serenamente un bacione a tutte alla prossima